Tregua armata fino al 13 giugno, le trattative sindacali ripartiranno solo dopo il Consiglio Comunale e la successiva riunione di giunta. A Palazzo di Città si deciderà l'adeguamento inflattivo del contratto del trasporto pubblico locale, il parziale ripiano delle perdite dell'esercizio 2014 dell'Ataf e la ricapitalizzazione e il nuovo regolamento della sosta tariffata. Operazioni che potrebbero costituire una boccata d'ossigeno e portare liquidità, consentendo al CDA di rimodulare le intese economiche prospettate ai sindacati sulle indenità aziendali e magari ridurre quello che il Presidente Raffaele Ferrantino definisce un prestito da parte dei lavoratori. L'azienda infatti si impegna a valutare di restituire le somme tagliate negli stipendi da giugno a dicembre nello stesso 2016 o nel 2017. Il 30 e 31 maggio erano già fissati ulteriori incontri per proseguire il tavolo delle trattative tra CDA e segreterie aziendali, ecco perché l'atteggiamento dei lavoratori era apparso inspiegabile ai vertici e potrebbe non finire senza conseguenze lo sciopero selvaggio del 26 maggio. La convocazione del Prefetto è partita infatti in base a quanto sancito dall'articolo 8 della legge sull'esercizio del diritto di sciopero e non su richiesta delle organizzazioni sindacali che in quella sede hanno preso le distanze dalla protesta spontanea pur ribadendo le rivendicazioni. L'avevano detto anche davanti ai cancelli che erano impegnati in un'opera di convincimento per far tornare al lavoro i dipendenti. Le procedure previste per interruzione di pubblico servizio sono già partite, se ne occuperà anche la procura. Alla mezzanotte del 27 maggio i mezzi erano già tornati regolarmente in strada dopo una giornata nera, soprattutto per anziani e malati che abitualmente prendono l'autobus anche per le cure mediche.